bella vecchi trapani, bella, bella, bella olè, oggi facciamo il vlog perchè c'è il temporale, giustamente oggi è un giorno speciale perchè è appena arrivato un pacco a casa d'Arril prego, non è arrivato a casa tua, bella prego, regia ma che sei scemo qua dentro c'è una cosa preziosissima ragazzi, c'è una cosa che uno youtuber aspira tutti gli youtuber aspirano ad aeree questa cosa qua, dovrebbe essere cioè è il bottone dei 100.000 iscritti e adesso noi che cosa andiamo a fare un bel pacco opening unboxing del coso di 100.000 iscritti, vai, apriamo la scatola e vediamo cosa c'è dentro mi arriverai in questa bellissima scatola allora vediamo, qua c'è sta la cosa più bella della scatola che è quella di spiegarle con quei fregnacci, non mi ricordo mai come si chiama questa cosa questa la possiamo anche togliere questa la possiamo anche togliere vai, ok vediamo eh è imbustata, guardate che figa la scatola che è eh, non c'è scritto niente è una scatola stupenda, fantastica privilegiatissima oh, qua c'è la lettera c'è la lettera se potessi non spiegare a più è la carta normale no è figa la carta lucida ma che cazzo allora io ve la voglio zoom, aspetta ve la voglio zoomare un attimo leggila, leggila aspetta, prima ve la zoom e ve la faccio vedere eh, ma tanto viene a specchio questa lettera a rimettere a fuoco ok non so cosa sia questo record perché non l'ho mai visto noi capiamo tutto la la, la, la dedizione e il talento che ci è voluto per arrivare a 100.000 iscritti vogliamo che tu sappia che noi non prendiamo questo, questo raggiungimento per scont, non diamo questo raggiungimento per scontato tu ci hai fornito l'audience, noi vi forniamo il, il premio il rewards eh, per commemorare questa, questa milestone, cioè non so come si dice che è tramigliare no, non è, non è per tramigliare milestone è tipo, è il traguardo questo, il traguardo dei 100.000 iscritti per favore accetta questo con, con le nostre congratulazioni questo silver play button questo silver play button sappiamo che, eh, continuerai a creare contenuti incredibili e portarli di molto di più ai fan ci teniamo, ci riserviamo la cosa di mandarvi nuovi reward mi tra tutto a malissimo speriamo di mandarvi in futuro altri reward, ovvero quello del milione perché ci arriveremo, ragazzi, però poi grazie per essere stato fantastico Sincorley, Thomas C. Pickett Global Head of Continent Operation of YouTube questa è fighissima, raga, questa allora possiamo andare a... perché poi ci sta la firma a mano del Pickett, capito? poi per pensare quante firme ormai, cioè, poi ho fatto la stampa con tutte le firme ma no, ma la firma una volta la firma una volta per tutte carta carbone e carta canta ok e adesso arriva il pezzo forti ok, così mettiamo così tan 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 bambi un salutor cazzo olèí eccolo qui ora tiriamolo poco fuori eh? piano? oh, ma tu sei matto se se rompe, ce ne manano uan to schzerzo ragazzi, questa è veramente, cioè, è tipo la cosa più bella che c'è che abbiamo avuto da YouTube E' la cosa più bella perchè in questo quadro ragazzi veramente adesso vi diventiamo un attimo seri Diventiamo un attimo seri Ho appena iniziato Lo so che questa cosa non sarà credibile a rendere accanto a questo coglione Però ragazzi qua dentro ci siete veramente tutti voi Un grazie veramente profondo a tutti voi che veramente avete cliccato anche solo una volta iscriviti Magari qua non vi siete visti nessun video Vuol dire che... Ma cosa c'è Davide? E' così cioè Eeeh Grazie veramente perchè vuol dire che in quel momento Volevate iscrivervi Volevate iscrivervi ai granas Questo qua ragazzi è nostro È nostro di tutti noi insieme E' una conquista Quindi mo' andiamo a squagliare E' freddiamo un po' Quindi mo' andiamo a fai i soldi Da renti i big money arrivano con questo Perchè questo qui lo squagli e fai i soldi Io adesso questo qua lo prenderò qui in camera Così ce l'avremo tipo dietro al muro Questo qui dove sta la telecamera in questo momento Dietro Quindi purtroppo non si potrà vedere No vabbè lo vedrete Magari se si mette un tipo di qua Con qualche angolazione lo vedrete E niente ragazzi Veramente più di ringraziarvi per questo fantastico traguardo Che ci avete dato Non so come fare Se non continuare a portarvi i video sempre migliori E di una qualità ovviamente sempre migliore E con costanza come abbiamo sempre fatto Voi spero che ci continuate a seguire Questo è soltanto un inizio Perchè noi puntiamo veramente a quello più grande Quello d'oro Che è alto così E pesa 20 kg Ma va bene E se squaggiamo pure quello Certo E niente ragazzi Dai Granas è tutto Noi ci vediamo al prossimo video Grazie ancora Bella Big up Big up Yo